Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Sky Team, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita. Sky Team è un gioco cooperativo, collaborativo, dove dovrete andare a vestire i panni di un pilota e del suo copilota, quindi un gioco da due giocatori al massimo, e dovrete riuscire a fare dei voli di linea portando l'aereo ad atterrare negli aeroporti più famosi di tutto il mondo. È un gioco semplice, è un gioco con pochissime regole, ma che ha bisogno, secondo me, di un pochino di rodaggio, almeno una partita completa prima di entrare veramente nell'ottica. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sky Team, edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco collaborativo. Noi saremo un pilota e il suo copilota che dovranno collaborare in maniera, tra 20 virgolette, segreta, o comunque con una comunicazione limitata, per riuscire a fare un volo di linea e portare l'aeroplano a atterrare nei più famosi aeroporti di tutto il mondo, senza, ovviamente, subire danni o senza mancare l'atterraggio. Insomma, lo dovete fare il classico volo di linea da manuale. Abbiamo una plancia generale, su cui i giocatori dovranno andare a mettere i propri dadi, dadi arancioni e dadi blu, nel caso del pilota e del copilota, con sopra, come vedete a schermo, dei valori, dei numeri e dei colori. Quindi, dove c'è il colore blu, vuol dire che sono degli slot per il pilota, quindi soltanto il giocatore del pilota potrà andare a metterci uno dei suoi quattro dadi. Dove c'è il colore arancione, ci potrà mettere i dadi soltanto il copilota. Ovviamente ci sono alcune parti dove c'è blu e arancione, vuol dire che tutti e due potranno andare a interagire. Ad esempio, i motori sarà una prerogativa del pilota, quindi aumentare o diminuire la velocità del proprio aeroplano bisognerà andarci a mettere sempre un dado blu. Le comunicazioni con la torre radio sono una cosa che se ne occupa il copilota. Ci dovranno essere messi dei dadi arancioni. Ci saranno due punti sulla plancia di vitale importanza che ogni turno dovranno essere tenuti sotto controllo, che sono il rollio dell'aereo e i motori. Quindi due dadi andranno sempre messi lì, perché l'aereo senza velocità ovviamente finirebbe per schiantarsi e l'aereo senza il giusto assetto di rollio finirebbe per andare in avvitamento e quindi precipitare. Quindi sono due cose che vanno tenute sempre sotto controllo. Come funziona il gioco? Il gioco fondamentalmente è molto semplice. Si vanno dietro queste plancette, che vedete qui davanti, che sono una per il pilota e una per il copilota, si vanno a tirare quattro dadi. Usciranno un valore da 1 a 6. Quei valori lì andranno messi sui vari slot per attivare cose particolari dell'aeroplano. Ad esempio, incrementando la velocità, si accorcerà la distanza che manca per arrivare all'aeroporto, quindi all'atterraggio. Se la velocità invece è troppo bassa, ci metteremo più tempo ad arrivare verso l'aeroporto, ma per ogni turno che passa l'altitudine dell'aereo si abbassa. Quindi avete due barre che sono la distanza che manca dall'aeroporto e l'altitudine che devono combaciare, perché l'altitudine deve essere a 0 a livello del terreno al momento che arriverete all'aeroporto, la fase finale, per fare l'atterraggio. Perché se arrivate all'aeroporto e siete ancora troppo alti, vuol dire che l'avete mancato e dovete fare un giro per riuscire ad atterrare. Oppure se l'altitudine è troppo bassa e l'aeroporto non siete ancora arrivati, avete fatto un atterraggio di fortuna e avete fallito la missione. Quindi noi quando si vanno a scegliere questi dadi, che ve l'ho detto possono avere un valore da 1 a 6, possiamo andare a mettere i dadi negli slot che vogliamo della plancia in comune. E qui subentra il lato, secondo me, cooperativo del gioco, ma talmente evoluto che difficilmente l'ho visto altre volte. Questo è un gioco per davvero collaborativo, non è soltanto tirare un dado in più per ammazzare uno zombie o il mago che aiuta il guerriero. No, qui se non si collabora e non ci si capisce, l'aeroplano viene distrutto, esplode oppure non arriva semplicemente all'atterraggio. Ma non si può parlare direttamente, quindi non posso dire io ho un 6, un 4, un 3, che cosa c'hai? Io ho un 5, un 5 e un 6. No, voi potete dire soltanto, collaborando all'inizio, prima di mettere i dadi, quindi all'inizio del turno, potete dire bisogna ridurre la velocità dell'aereo, oppure bisogna stare attenti al rollio, o semplicemente bisogna liberare, parlando con la torre radio dell'aeroporto, bisogna far liberare lo spazio aereo, perché durante la strada, se trovate altre aerei durante la strada, vi andate a schiantare. Quindi comunque c'è deve essere una collaborazione, ma solo così. Quindi, stiamo attenti al rollio e aumentiamo la velocità dei motori. Basta, da quel momento si iniziano a mettere i dadi, non si parla più, il pilota è il primo che mette i dadi, il copilota è il secondo che li mette, a seconda ovviamente di quello che c'è scritto sulla parte dell'altitudine, con le freccette che vanno a rappresentare uno o l'altro, e quindi andando a mettere i dadi, dobbiamo riuscire a collaborare. Cioè, se il piano iniziale era di aumentare la velocità, e vediamo che, ad esempio, che il 4 blu che ci ha messo il pilota non basta aumentare la velocità, magari il copilota sa che il suo 5, messo accanto al numero del pilota, riuscirà ad incrementare la velocità dell'aereo. Quindi si riesce a fare quell'azione. Però non si può parlare, non si può dire, aspetta, però magari no, non ci metto questo, ci metto quell'altro. Al momento che prendi un dado, e ce l'hai in mano, lo devi posizionare. Non lo puoi rimettere dietro. E quindi è una collaborazione inizialmente di briefing generale per quello che c'è da fare, e successivamente, invece, silenziosa per riuscire a capirci con quello che abbiamo, ci siamo prefissati, abbiamo organizzato inizialmente. Quando si arriva alla fase d'atterraggio, ve l'ho detto, altitudine e aeroporto devono essere alla stessa altezza, quindi la prima, rispetto alla plancia generale, e quando si va a fare l'atterraggio ci sono delle cose da fare in successione. Tirare giù il carrello, ovviamente. Aprire tutti quanti i flaps, che vi ricordo, i flaps sono quelli che vanno a fare, a dare la frenata, quindi la diminuzione di aerodinamicità dell'aeroplano lo vanno fisicamente a rallentare. E per ultimo, ma non meno importante, attivare in sequenza tutti quanti i freni, perché il livello dei freni dovrà essere più alto della vostra velocità, così da frenare l'aeroplano. Insomma, è un gioco particolarmente complesso, ma non complicato, dove per vincere si deve veramente collaborare al 100%. In conclusione, Sky Team, in questa edizione italiana cura di Asmod Italia, è un gioco, secondo me, alla portata di tutti. Non ci sono poche le regole da conoscere, non ci sono carte da leggere, non ci sono cose da dover interpretare, è tutto sulla portata della plancia. Voi dovete prendere un dado e metterlo nello slot con quel valore di dado, o se è uno slot aperto, ci potete mettere qualsiasi valore che va a incrementare la vostra azione, il risultato. Quindi è un gioco facile, semplice, anche dietro le plancette, nei promemoria, ci sono scritte veramente pochissime informazioni, però è un titolo complesso, perché questo è veramente un collaborativo. Quindi, se non collaborate per bene, attentamente, intelligentemente, vedendo cosa è stato messo prima di voi sulla plancia generale, si rischia di fare, cioè di perdere l'aeroplano in due o tre turni. Quindi, è facile come gioco, non è facile farla atterrare. Ci vuole un attimo di organizzazione ed è anche il suo bello. Io ringrazio Asmode Italia per la copia fornita, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sove impressione, come in tutti i video, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito di Gioco Libreria Semola e trovate Sky Team finito, o proprio non è presente nel catalogo e in lista, mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvelo se ha finito le copie o se proprio non ce l'ha neanche in lista. E utilizzate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79 euro corriere gratuite in 48 ore in tutta Europa. Quindi, Gioco Libreria Semola è sempre un servizio impeccabile. Gioco assolutamente passato e se cercate un gioco cooperativo veramente veramente come pochi altri Sky Team è perfetto. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate e ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!